... Si ritorna al teatro che è il mio habitat naturale e che però negli ultimi anni insomma fa fatica ad offrire opportunità a noi artisti e possibilità al pubblico e questa stagione al super cinema è davvero una rinascita anche senza covid, al di là del covid davvero a Castellammare c'è sempre qualche difficoltà in più nonostante il numero infinito di artisti, di colleghi che fanno questo lavoro e questa stagione ci voleva e spero che possa continuare e che sia duratura nel tempo per offrire alla città delle occasioni di condivisione e di riflessione perché il teatro ci fa entrare in una dimensione magica, poetica ma spesso ci mette diciamo di fronte a delle problematiche a delle considerazioni da fare a 360 gradi come quelle che può offrire Viviani da tanti punti di vista dobbiamo considerare che di questi tempi l'anno scorso la struttura era chiusa per la pandemia poi insieme con Luca abbiamo cercato di riprendere l'attività per non far mancare questo servizio basilare alla città di teatro e cinema ritorna a Castellammare dopo tanti anni di chiusura serrata di tutte le strutture culturali in modo particolare dei teatri Castellammare non poteva mancare all'appello Castellammare di Stabbia culla del teatro visto i grandi predecessori che ci sono stati a Castellammare come Raffaele Viviani e Annibela Ruccello Castellammare culla del teatro non poteva non dire presente alla chiamata di tutte le città che hanno dei teatri anche Castellammare ha detto presente ci siamo e ci siamo con un cartellone nazionale e internazionale perché all'interno degli spettacoli esclusivi che faranno data unica a Castellammare di Stabbia come lo spettacolo Alza la Voce con Giulia Michelini e Paola Michelini come lo spettacolo di Marco Bocci Lo Zingaro oltre a questi spettacoli abbiamo all'interno grandissimi nomi che rappresentano la memoria storica del teatro che rappresentano le pagine più belle del teatro uno di questi è la signora, la regina della scena Lina Sastri che verrà qui con uno spettacolo a punti di viaggio a far emozionare ancora il pubblico di Castellammare di Stabbia e poi ancora uno spettacolo dedicato a Raffaele Viviani interpretato da Marina Bruno, Ernesto Lame, Elisabetta D'Agunso uno spettacolo a Raffaele e in questa semplicità c'è tutta la gloria di questo grande commediografo drammaturgo e poeta che è appunto Raffaele Viviani ed è un appuntamento importante per la cultura Stabbia ci tengo in modo particolare a questo spettacolo perché Raffaele Viviani va omaggiato così venendo attreato e portandolo in scena e poi all'interno di questo cartellone abbiamo un nome mondiale un nome che ho sempre sognato ed è il maestro Nicola Piovani che rappresenta per Castellammare di Stabbia una possibilità di riscatto perché almeno per quella notte avremo una visibilità mondiale basta vedere il sito del maestro e vedere il tour che farà e ci accorgeremo che in mezzo a queste importanti piazze c'è la data di Castellammare di Stabbia e quindi per noi rappresenta una possibilità di riscatto rappresenta quella luce internazionale che ha bisogno della nostra cultura perché attraverso l'arrivo del premio Oscar 5 volte Davide Donatello e il maestro Piovani c'è possibilità davvero di far rinascere Castellammare perché migliora tutto l'indotto perché giungeranno qui persone da tutta la campagna e da fuori campagna e quindi questo fa bene a tutta la città fa bene per le attività commerciali della nostra città si crea turismo e il maestro Piovani l'arrivo, la sua venuta ci dà questa possibilità quella sera di avere quel riscatto che abbiamo tanto sperato vi diamo appuntamento domenica 28 novembre alle ore 18 con Giulia Michelini e Paola Michelini con lo spettacolo Alza la voce il mio appello è quello di venire tutti in teatro abbiamo realizzato una stagione teatrale per le famiglie accorrete in teatro sono dei luoghi sicuri abbiamo davvero il rispetto di tutti i protocolli venite in teatro sostenete il teatro perché abbiamo bisogno davvero di tutta la città perché il teatro deve rinascere quindi